Ciao Fabio innanzitutto, ti ha già spiegato come funziona il cambio? Si, ho detto che io sono... Up-down, per metterla prima, devi premere il freno e inserisci. Si, si, come quella del marzo. Ok, si, si. Lo vedo il cambio qui? Cosa? La marza è la di qua, guarda. Se vuoi partire possiamo andare. Si, se vuoi tranquillo, lo tolto io. Poi, in pista, di volta in volta, ti andiamo a vedere i birilli di staccata, no? Per la frenata, per la traiettoria da seguire. Punti, di volta in volta, tipo ecco, si fai. Vabbè, si, eh. Come si può dire il terreno? Adesso fermati, mi rende un certo qua. Per me, non andare qua, è la luce. Quindi, dove un quarto ci vuoi dire? Si, dove un quarto così. Ecco, dove un quarto così? Si. Vado? Vai fuori. Eorge. Si. Vado? Vado buono. Vado, sì. Vado in 내가. Punti, 재h quadrant. Sì e cerco di evitare di evitare il gas così senti che c'è un po' lo sapevo beh, è difficile nel limite è possibile perché si deve poi andare su un terapia se proprio devi incorsarlo molto quel gas andate, 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 andate questo è un po' molto lungo perché se metti in seconda poi avete un po' nervosa in fungita vedi, adesso è un pezzo di gas un po' nervosa in fungita per oggi è un po' di medistero che si è un po' nervosa in fungita è un po' di controllo e poi tutti le abbiamo perché sono un po' rendre e quindi è un po' di più non c'è un po' di più la cosa del tema è che questo è un po' di più è un po' di più e qui va E' qui il bambino? Non è che la sentita la mia cosa, non è che la mia cosa Ancora subito, non è l'avevo, passa un'intento No, 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 no. No, non so, no, ma non fanno i multi perchè? E' un po' lì sull'edito, vedi? Guarda, è così che ho preso, vedi? Vedi? Se tu prendi quella volta e girate è obbligato E' un E' un po' l'ip Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.